Marco Arena, 14esimo gol stagionale, grande pietta, soprattutto due gol importanti per la vittoria del Fiorensuola. Sì, diciamo che oggi l'importante era vincere, noi sapevamo che comunque arrivava una squadra giovane e se l'ultima in classifica con sei punti non volevamo sminuirla e ci siamo riusciti vincendo penso anche abbastanza facilmente ed è andata a bere, adesso abbiamo il Carpenedolo domenica prossima e sapevamo tutti che vincendo domenica si metterebbe molto molto bene per noi e molto molto male per il Carpenedolo. Ecco, siete stati bravi soprattutto a rendere facile una partita che in qualche caso contro una squadra appunto che arrivava da una lunghissima serie di sconfitte potrebbe sempre mettersi male. Eh, ma tante volte sono queste le partite più difficili, infatti non tutta settimana che lavoriamo tanto c'è il mister, lavora tanto sulla psicologia perché sai tante volte dici arriva l'ultima dalla classe e magari la prende un po' sotto gamba e noi oggi eravamo molto concentrati e poi alla fine si è visto che ce n'è stata partita. Di solito un bomber non è mai particolarmente altruista, tu invece in occasione del 3-0 hai servito a Lucci un assist davvero d'oro. Eh, vabbè lui era messo bene dai, poi vabbè te l'ho detto anche prima, tante volte l'egoismo non paga. Sai, poi magari sbagliando il gol io e poi tanti potevano dire l'arena, non l'ha giocato, ha sbagliato, invece vabbè l'appoggiata è in porta a lui, tanto è uguale. Dobbiamo vincere tutti, non devo vincere io. Ok. Ok.